E adesso Marco Travaglio con il passaparola affronta un tema annoso, perché in Italia è un attimo essere definiti putiniani, anche chi va verso la pace si è beccato del putiniano, ma chi sono i veri o presunti o falsi putiniani d'Italia? Ce lo dice Marco Travaglio. È ripartita la stagione della caccia al putiniano per spaventare quelli che dicono la verità sulla guerra in Ucraina, cioè che l'Ucraina e la Nato hanno perso e Putin ha vinto e che bisogna quindi trattare non per il bene della Russia ma per il bene dell'Ucraina. Il bello è che a dare del putiniano a chi non lo è e non lo è mai stato è proprio chi lo è sempre stato almeno fino al 2022, come se prima del 2022, Putin arrivato nel 99, Putin non avesse mai fatto niente di cattivo e fosse stato un agnellino, in realtà era sempre stato cattivissimo fin dal 1999, le stragi in Cecenia sono del 99-2009, gli assassini della Polikoskaya e di Livignenko sono del 2006, la guerra in Georgia è del 2008, l'invasione della Crimea è del 2014 e il massacro di Aleppo in Siria è del 2016, ma gli atlantisti nostri hanno i riflessi sempre un po' lenti e la memoria un po' corta. Sergio Mattarella, negli otto anni dopo l'invasione della Crimea, quando la Russia era già sotto sanzioni, ha insegnato delle massime onorificenze della Repubblica, ben 30 fra ministri, funzionari e oligarchi del cerchio magico di Putin, compreso il suo portavoce Peshkov. Enrico Letta è stato premier nel 2013 e ha ricevuto Putin, con tutti gli onori a Trieste, firmando 28 intese commerciali e 7 accordi intergovernativi e lo ha ringraziato per la sua disponibilità, amicizie e voglia di cooperare insieme e Putin lo ha ricambiato invitandolo alle Olimpiadi Invernali di Sochi, dove nessun capo di Stato occidentale andò, disertarono Obama, la Merkel, Cameron e Hollande perché Putin aveva fatto delle leggi contro i gay. Ma Letta ci andò da solo e con il suo governo la dipendenza dell'Italia dal gas russo, che già era esplosa negli anni di Berlusconi, aumentò al 45% del totale. Poi arrivò Renzi e arrivò mentre Putin entrava in Crimea e la Russia veniva sanzionata a livello internazionale, ma sia con Renzi sia con Gentiloni l'Italia aumentò ancora la sua dipendenza dal gas russo fino al 47,8%. Renzi autorizzò anche la vendita a Mosca di 94 blindati lince dell'Iveco per 25 milioni, gli stessi che poi abbiamo visto che entravano in Ucraina. Nel marzo 2015 Renzi incontra Putin per tre ore a Mosca e dice di fronte alla minaccia terroristica ed estremista in Libia il ruolo della Russia può essere decisivo, la cooperazione Russia-Italia prosegue attivamente, le sanzioni alla Russia creano problemi a entrambe le parti. Era contro le sanzioni. Parlo anche del Donbass e disse alla TASS che l'Ucraina doveva rispettare gli accordi di Minsk e dare un'autonomia speciale ai russofoni tipo Alto Adige, cioè aveva ragione, persino Renzi ha avuto ragione. Pensate a maggio di quell'anno Putin va a trovare Renzi all'Expo di Milano e Renzi fa un altro soffietto. Grazie di essere qui, l'accolgo con grande gioia, lavoreremo insieme per ripartire dalla tradizionale amicizia Italia-Russia, il lavoro che possiamo fare insieme a radici antiche e noi vogliamo che abbia un futuro ricco di energia per il pianeta e per la vita. Novembre Renzi viene intervistato da Mario Calabresi che gli domanda possiamo fidarci di Putin e Renzi. Do una risposta da Twitter. Sì, nessuno può immaginare di costruire l'identità europea contro il vicino di casa più grande considerandolo un nemico. Putin è il capo di un paese assolutamente cruciale per la stabilità del mondo. Sarebbe assurdo alzare una cortina di ferro tra Europa e Russia. Aveva ragione ancora Renzi, pensate. Giugno 2016 Renzi rivede Putin al forum economico di Putin a San Pietroburgo e duetta con lui in conferenza stampa. Chiederemo di ridiscutere le sanzioni. L'Italia vuole essere più presente economicamente in Russia. Abbiamo già chiuso accordi per più di un miliardo che potenzialmente spalancano partnership per 4 o 5 miliardi. La parola guerra fredda non può stare nel vocabolario del terzo millennio. È fuori dalla storia, fuori dalla realtà. È inutile. Abbiamo bisogno che Unione Europea e Russia tornino ad essere buoni vicini di casa. Russia ed Europa condividono gli stessi valori. Aveva ragione ancora Renzi. Gran finale. Se avete notato, oggi il Presidente Putin è stato più europeista di me. Spassiba, grazie. Parlava in russo addirittura. Putin ricambiò a tutta lingua. Renzi è un grande oratore, mi complimento con lui per l'intervento. L'Italia può andare fiera di un premier del genere. Usciti di lì, Renzi chiese a Putin un passaggio sulla sua auto blindata e Putin glielo diede. 2021. Renzi, ormai ex premier ma semplice senatore, entra nel consiglio di amministrazione di Delimobil, che è una società di car sharing russa con sede in Lussemburgo, creata da un napoletano in joint venture con una banca statale russa, la VTB. E ne è uscito per la vergogna quando Putin è entrato in Ucraina, con in tasca 40 mila euro di gettoni di presenza. Poi ha iniziato a dare dei putiniani agli altri.